come va il mondo attualmente il mondo è pieno di malvagità pieno di malvagità in tantissimi campi cioè il mondo non è statico ma il mondo è sempre pieno di malvagità no, nella storia del mondo il mondo va meno malvagio e più malvagio meno malvagio e più malvagio guardate Israele nella Bibbia Israele era sempre uguale nell'Antico Testamento passavano da alti a bassi e noi siamo in un momento storicamente bassissimo siamo come Sodoma e Gomorra ma pienamente incredibile la società non tolera più il male una volta la società non tollerava il male e poi tollerava il male ma ha smesso di tollerare il male adesso promuove, spinge il male la società nella mia vita ho visto da non tollerare a tollerare a promuovere a pieno velo cioè la società nella mia vita è passata da non tollerare in modo aperto palese a tollerare a promuovere perfino insegnano a bambini piccoli cose che vanno contro come Dio ci ha creati cioè insegnano politici sono pieni non hanno timore di essere disonesti ma da dove vengono i politici pensate a questo da dove vengono i politici da dove vengono dalla società non sono tutti importati da qualche altro posto dove noi siamo tutti buoni mi ricordo anni fa 30 anni fa sì, circa 30 anni fa quando c'era Tangentopoli e mi ricordo che tanti oh ma questi politici, questi politici ma varie persone che mi dicevano questi politici loro stessi prendevano tangenti nel loro piccolo nel loro piccolo prendevano tangenti e dicono ma scusami questi politici certo i politici potevano prendere grandi tangenti i piccoli piccoli tangenti ma lo facevano gli stessi che criticavano i grandi quindi i politici non sono diversi dalla società persone che criticano i politici sono disposti a fare il nero no? le opportunità che hanno sono ben contenti a fare abbiamo una società piena di disonestà di frode di inganno cioè è normale ogni gruppo cerca per se stesso non si può fidarsi non si può fidarsi degli altri e gli altri non possono fidarsi di te mica che sono certi e questa è la società in cui viviamo depressione suicidi sono aumentati soprattutto in quest'ultimo anno più persone sempre più persone non vogliono sposarsi perché hanno timore che andrà male e convivono finché va bene quelli che si sposano spesso si separano in un certo senso i figli crescono sempre peggio imparano ad avere un lavoro ma non imparano a vivere cioè i figli di oggi imparano i genitori sono fieri se imparano vanno bene a scuola i genitori sono contenti se vanno bene a scuola non capendo che non sono pronti per la vita non sanno rapportarsi non sanno risolvere le differenze nel matrimonio nella famiglia sanno lavorare sanno studiare per poi lavorare per guadagnare ma non sanno vivere ma la cosa che Dio si insegna non è di fargli avere un buon lavoro fargli avere buoni volti e fargli sapere come vivere allevate i figli non avere un buon lavoro allevate i figli in cosa? la disciplina è il monumento del Signore che ci insegna come vivere questa non è la vita di oggi la maggioranza dei giovani non per colpa ma per come vengono cresciuti sono cresciuti a fare due cose studiare e divertirsi questa è la vita di oggi e Satana ne fa festa il mondo va male va molto 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 male allora la domanda è dove è Dio? dove è Dio? con tutto questo male dove? perché Dio permette questo? dove è Dio? a solo guardare attenzione non sempre vedo tutto ma a solo guardare sembra che Dio sia assente onestamente sembra che Dio sia assente dove è Dio un vero credente che ama il bene odia il male che è un frutto della vera salvezza dove è Dio? perché il mondo è così? perché Dio non interviene? potete aiutarmi a pensare nella Bibbia di esempi iniziamo con l'Antico Testamento dove il popolo di Dio o un individuo può essere tutti o uno non vedevano Dio all'opera però dopo il fatto sappiamo che era all'opera c'è qualche esempio dalla Bibbia ci sono tanti quali sono? Esodo mentre viaggiavano non vedevano la cura di Dio non c'era da mangiare non c'era da bere ok nell'Esodo dopo l'Egitto dove è Dio? finché non ha dato la manna che era poco tempo ma c'era quel periodo ok andiamo un po' prima poco prima dell'Esodo ok e anche però io vorrei andare in mezzo fra l'Esodo e Giuseppe 400 anni di schiavi tu 4 secoli generazione dopo generazione dove è Dio? noi di quello che abbiamo sentito noi siamo i discendenti di Abraham quello sì siamo e Dio aveva promesso di benedirci come popolo e siamo schiavi schiavi stranieri in questa nazione che ci maltrattano dove è Dio? il Dio di Abraham Isacco e Giacobbe dove è? era visibile? si vedeva quello che stava facendo Dio? onestamente sono nati e morti generazioni senza vedere e poi tornando prima di quello hai detto tu bene Giuseppe per parecchi anni parecchi anni venduto come schiavo dai suoi fratelli in prigione ingiustamente abbandonato da tutti dove era Dio? da quello che poteva vedere c'era qualche prova della presenza di Dio? zero in senso no? questi sono alcuni esempi Davide il re Davide prima che fosse il re in quale momento si? con Saul scappando da Saul e i paesi piccole città che aveva aiutato prima lo tradivano Saul Saul è qui venite vieni vieni uccidetelo no? Davide ma dove è Dio? dove era Dio? Geremia mi ha mandato a predicare predico la verità che mi hai detto e cosa facevano? lo hanno messo in una cisterna dove sarebbe morto se un emeco non fosse intervenuto cioè sarebbe morto in una cisterna dentro il cortile poi fu portato in Egitto con i prigionieri dal suo popolo perché non apprezzavano la sua predica di non andare in Egitto lo hanno forzato ad andare con loro dove era Dio? l'apostolo Paolo tornando al Nuovo Testamento arrestato ingiustamente dai romani tenuto due anni ad Antiochia e poi mandato a Roma invece di liberato e due anni sappiamo almeno di due anni lì dove era Dio? questi sono pochi esempi ci sono tanti altri in Atti 8 diceva che la persecuzione era forte appunto che tutti i credenti a Gerusalemme dove erano rispersi erano rispersi cioè la persecuzione era così che dovevano scappare per la vita ma dove era Dio? allora c'era Dio c'era Dio e se noi pensiamo dopo il fatto c'era Dio per Giuseppe in carcere in Egitto c'era Dio mentre era in Esodo al suo tempo ha liberato loro c'era Dio durante l'Esodo in Egitto era Dio nell'Esodo Dio non ha fatto morire di fame ha sempre no c'era Dio c'era Dio quando Davide scappava da Saul perché Dio lo stava formando c'era Dio quando Paolo era prigioniero dai Romani perché così ha predicato alle guardie del Cesare no? dell'imperatore c'era Dio ma non sempre era visibile quindi il mondo è malvagio non c'è da dire il mondo è molto malvagio ma Dio è sul trono e senza un ordine ma voglio ricordare che Dio è sul trono voglio ricordare che il mondo non va per caso perché se io dimentico che Dio è in controllo cosa succede? vado in crisi no? vado in tilt signori cosa sta succedendo? allora Dio non sempre ci spiega perché non siamo addirittura non siamo capaci a capire ma Dio ci conferma ci sono ci sono e Dio ci dice questo dopo il fatto o prima? prima delle prove o dopo? ma c'ero? o ci dice prima? ci sarò prima ok brani imbarazzo della scelta Matteo 28 Gesù morto risuscitato pronto a tornare in cielo e conosciamo bene questo Matteo 28 e Gesù trova gli apostoli in Galilea e cosa dice allora conosciamo questo leggo Matteo 28 da 16 ora gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato e vedutolo lo adorarono alcuni però dubitarono poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra andate dunque e fate i discepoli di tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato ora ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo Amen due grandissime verità qui uno Gesù ha ogni potestà Gesù ha potestà sul tuo dottore di lavoro i tuoi colleghi di lavoro sui tuoi clienti sui tuoi vicini sui tuoi parenti su quello che sta guidando male davanti o dietro di te Gesù ha ogni potere ha potere sulle cellule nel tuo corpo le malattie i virus le batterie le cellule di cancro Gesù ha ogni potere ogni potere non tanti poteri ha ogni potere non può su ogni atomo nell'universo ogni potere su ogni spirito non dobbiamo temere la Bibbia non ci insegna mai a scridare di Satana ci pensa Gesù Gesù e gli apostoli avevano un ruolo che noi non abbiamo non dobbiamo la Bibbia non insegna ai credenti di comandare Satana nomi di Gesù mai troviamo nessun insegnamento del genere non è Biblico ci pensa Gesù come dobbiamo resistere Satana che va in giro come leone ruggente come dobbiamo resisterlo stando fermi nella fede che vuol dire guardando a chi guardando a Gesù quindi Gesù ha ogni potestà e Gesù è con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo in Efessini 1 c'è la meravigliosa preghiera dove Paolo prega per i credenti quindi anche per noi che Dio opererà in loro per farli conoscere quello che umanamente è troppo grande da conoscere e voglio leggere in mezzo alla preghiera fra le cose che Paolo prega che possono conoscere lui menziona versetto 19 e leggo fino a 22 per sentire della potenza di Cristo e di Dio che opera in noi e che possiate sapere conoscere versetto 19 qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della forza della sua potenza che egli ha messo in atto in Cristo riuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti al di sopra di ogni principato potestà potenza signoria e di ogni nome che si nomina non solo in questo mondo ma anche in quello a venire ed egli ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa autorità autorità assoluta su tutto quello che c'è spirituale materiale di ogni energia Gesù Cristo è sopra quello elenco al di sopra di ogni principato potestà potenza signoria e di ogni nome che si nomina questo è assoluto Gesù Cristo è sul trono in Filippesi 2 leggiamo dell'abbassamento di Gesù e poi dell'inalzamento di Gesù e leggo quello Filippesi 2 non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse ma anche quello degli altri perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù il quale essendo in forme di Dio non considerò rapina l'essere uguale a Dio ma enicheli se stesso prendendo la forma di servo divenendo simile agli uomini e trovato nell'esteriore simile ad un uomo abbassò se stesso divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce perciò anche Dio lo ha sovranamente inalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti terrestri e sotterranie e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre potere assoluto potere assoluto di ogni cosa allora dobbiamo capire questo io non vedo quello che Dio sta facendo adesso io vedo malvagità che umanamente vedo malvagità che regna crescere i figli in questo mondo e proteggerli dalle influenze malvagie più che malmeno che crescono terribilmente pericoloso è difficilissimo infatti è un motivo per cui dare un ragazzo ragazza un smartphone che possono usare per conto loro senza poi in sé è già assurdo è stoltezza massima da parte dei genitori e poi di dare senza i programmi che controllano quello che fanno è come mandarli nelle quartiere più malvagie della città di notte a passare le notte e tu non sai neanche con chi stanno è proprio è un mondo assurdo ma nel mondo di oggi è normale per quanto lontano siamo da capire i pericoli che ci sono e quindi Gesù sta all'opera che non vuol dire che non dobbiamo essere stolti dobbiamo capire le macchinazioni di Satana dobbiamo capire che Dio vuole che abbiamo rapporti sani puri non con uno schermo cioè lo schermo ti cambia come chi vede chi vive davanti lo schermo molto ha difficoltà a valutare la vera vita perché cambia letteralmente i circuiti dei neuroni nel cervello e ha difficoltà veramente a affrontare la vera vita veri rapporti lo schermo è utile ma lo schermo è un grave pericolo ci sono certi cibi e vittime ho parlato da pochissimo da pochi giorni con un uomo che aveva certi problemi e ha preso vitamina D in alta quantità e aveva sentito che aveva bisogno addirittura il medico ti serve vitamina D quindi ha preso poi non ha più visto il dottore e lui è arrivato ad essere quasi alla morte cioè quasi alla morte e non capivo perché e era gravamente ammalato dato che era intossicato di vitamina D che in grandi quantità diventa un veleno allora lui mancava vitamina D ma vitamina D va bene se tu prendi la quantità giusta come varie vitamine se tu prendi troppo diventa velenoso e lui prendeva troppo è arrivato vicinissimo alla morte e quindi lo schermo è utile ma è pericolosissimo il problema è come mettere uno debole di carattere un giovane in una pasticceria e ama queste cose esucarate e dire puoi avere quante ne vuoi gratis finché voi qui sarebbe moderato la maggioranza non tanto e quindi quindi Gesù è in controllo ma non vuol dire che non possiamo noi buttarci in gravi pericoli ma il punto è che Gesù è in controllo Gesù è in controllo in Daniele solo per sentire la potenza di Dio in Daniele Nebuchadnezzar era potentissimo ma prendeva la gloria per sé stesso e Dio ha mandato Daniele a spiegare il sogno spiegando che questo grande re sarebbe diventato come un animale ed è successo così e leggo l'avvenimento di questo in Daniele 4 e aveva sentito da Daniele l'interpretazione del sogno e Daniele ha esertato il re ravvediti non l'ha fatto e quindi 428 tutto questo avvenne al re Nebuchadnezzar 12 mesi dopo mentre passeggiava sul palazzo reale di Babilonia il re prese a dire non è questa la grande Babilonia che io ho costruito come residenza reale con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà queste parole erano ancora in bocca al re quando una voce è scesa dal cielo a te la parola nebuchadnezzar si adempì ed è fu scacciato di mezzo agli uomini mangiò l'erba come i buoi e il suo corpo fu bagnato dalla rugiada del cielo finché i suoi capelli crebbero come le pende delle acquile e le sue unghie come gli artigli degli uccelli alla fine di quel tempo io nebuchadnezzar alzai gli occhi al cielo e le mie ragioni ritornò benedisse l'altissimo e lo dai e glorificai colui che vive in eterno il cui dominio è un dominio eterno il cui regno dura di generazione in generazione tutti gli abitanti della terra davanti a lui sono considerati come un nulla egli agisce come vuole con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra nessuno può fermare la sua mano e dirgli che cosa fai questo era il re più potente in quell'epoca in tutto il mondo e Dio lo ha mutato giù avrebbe potuto ucciderlo ma voleva portarlo a glorificare Dio e lo ha fatto allora tantissimi tantissimi brani Salmo 47 8 Dio regna sulle nazioni Dio siede sul suo santo trono Salmo 93 2 il tuo trono è saldo da sempre tu sei da sempre Salmo 103 19 l'Eterno ha stabilito il suo trono nei cieli e il suo regno domina su tutto e poi conosciamo Salmo 2 ricordate Salmo 2 e voglio leggere quello perché veramente rispecchia il mondo di adesso tantissimo dove tu vedi vediamo gli uomini che si innalzano contro Dio dicendo quello che Dio ha dichiarato peccato è desiderabile quello che Dio ha detto è male per loro è bene quindi leggo Salmo 2 perché tumultano le nazioni e i popoli tramano cose vane i re della terra si ritrovano e i principi si consigliano insieme contro l'Eterno e contro il suo unto dicendo rompiamo i loro legami e sbarazziamoci dalle loro funi colui che siede nei cieli riderà il Signore si farà beffe di loro allora parlerà loro nella sua era e nel suo grande sdegno li spaventerà e dirà ho insediato il mio re sopra Sion il mio santo monte dichiarerò il decreto dell'Eterno e gli mi ha detto tu sei mio figlio oggi io ti ho generato chiedimi ed io ti darò le nazioni come tua eredità e le estremità della terra per tua possessione tu le spezzerai con una verga di ferro le frantumerai come un vaso di agilla ora dunque o re siate salvi accettate la correzione o giudici della terra servite l'Eterno con timore e gioite con tremore baciate il figlio perché non si addiri e non periate per via perché la sua era può accendersi in un momento viati tutti coloro che si rifugiano in Lui quel salmo descrive i tempi di oggi i re i principi le persone importanti agli occhi loro si mettono insieme per per alzare il pugno contro Dio ma non possono vincere non possono vincere infatti al momento giusto Gesù Cristo ritornerà giudicherà severamente frantumerà i vasi di argilla quanto resiste un vaso di argilla contro un scettro di ferro che è là quanto resiste un vaso di argilla non può difendersi abbiamo letto prima quando abbiamo letto se ricordate che nel canto quando dice che Dio rispingerà i superbi rispingerà e quanto sarà terribile quanto sarà terribile non ci sarà scampo e quindi per quanto potrebbe sembrare che Dio è assente per quanto potrebbe sembrare che il male sta vicendo grazie Dio non è vero il male sta Dio sta permettendo al male di avere una stagione dove va avanti sì questo sì ma Dio è in controllo e al momento giusto fermerà tutto la domanda da che parte stiamo stiamo compromettendo per avere meno problemi stiamo dicendo ma sai per evitare i problemi non dobbiamo mica buttarci nel peccato no no però sai qualche piccolo compromesso per evitare i problemi questi sono momenti dove è facile voler prendere la via più facile che a volte è la via di un piccolo per modo di dire compromesso ma i piccoli compromessi dove portano ad un compresso leggermente più grande e quello dove porta ad un compromesso ancora più grande a quello ad un compromesso ancora più grande mi viene in mente un ragazzo che i genitori gli danno delle regole ben chiare di evitare il contatto con gli strani e lui deve andare ogni giorno qualche chilometro a piedi per lavoro per scuola quello che sia magari ha 12-15 anni quello che è allora c'è un uomo che cerca di parlargli e all'inizio rifiuta come dovrebbe perché è strano non conosce chi sia i genitori non lo conoscono e dicono senti c'è gente che vuole sfiarti però dopo un po' questo uomo è sempre là e lui comincia a rispondere quando lo saluta e poi l'uomo comincia a fare i commenti ma dove vai e lui comincia ma vado sì dove compro cose per la famiglia e poi cosa compri compro questo compro quello dei cibi e nell'arco del tempo comincia a parlare con questo uomo ma non dovrebbe allora dice ai genitori di questo no perché ormai dice sto parlando già da due tre settimane meglio che non dico niente e poi comincia ad avere un po' certo piacere parlare con questo uomo e quindi compromesso di parlare adesso comincia a sedersi quindi cosa fa lui un po' core per arrivare prima e poi può sedersi per mezz'ora e poi prosegue e core e arriva a casa nel tempo giusto e nessuno pensa niente e poi comincia a l'uomo lo invita a casa sua quindi il cuore tanto e entra in casa è tutta una trappola alla fine cade lontano perché il primo compromesso cosa porta ad un altro compromesso che porta ad un altro compromesso che porta ad un altro compromesso questa è la tattica di Satana e noi in un mondo di malvagità metteremo le etichette di chi siamo siamo figli di luce e evitiamo ogni compromesso oppure in un mondo di malvagità prendiamo la via meno difficile e qualche non compromesso grande dai ma piccole sciocchezze per non essere troppo strani perché camminare nella luce adesso vuol dire essere già un po' strani ho menzionato e non è il punto ma come esempio non dare ad un 14 15 16 anni non dare un smartphone oggi tu sei visto come strano questo è un esempio fra mille non è quello il punto però tu sei visto come strano e magari potresti ricevere critiche da altri genitori ma dai e quindi cosa facciamo e lascia stare anche per me stesso cosa faccio mi interessa non essere visto esagerato dagli uomini o mi interessa camminare sempre in santità il mondo è malvagio chi non guarda Cristo può cadere ma Gesù Cristo è sul trono cosa cambia per me o per te se ti ricordi che Cristo è sul trono ritornerà giudicherà ma è sul trono adesso cosa cambia per te se ti ricordi attivamente questo pensiero tutti i giorni pace prima cosa che ho scritto avrai pace signori cosa sta succedendo signori non so io cosa ma io so che tu sei sul trono e ho pace troverai forza forza in Dio di andare avanti fedelmente senza compromettere perché tu dici no tu sei sul trono tu ritornerai allora io voglio essere trovato da te puro troverai il coraggio di andare avanti perché tu sai no il mio signore regna loro non capiscono ma io lo so e non sarai scosso o che possiamo ricordare il mondo è malvagio Dio ci chiama a camminare in un modo che ci odierà ci odierà sempre di più Giovanni 15 però di camminare come figli di luce in una generazione perversa no di innalzare la luce di Dio camminare come luce e cos'è filippesi cos'è 2 14 ecco mi leggo scusate sì in una generazione perversa ecco 2 12 13 14 e dice ecco ecco ok fate fate ogni cosa senza murmurare e senza dispute affinché siete irreprensibili e integri figli di Dio senza biasimo in mezzo ad una generazione ingiusta e perversa fra la quale risplendete come luminari nel mondo tenendo alta la parola della vita affinché nel giorno di Cristo abbia di che gloriarmi per non aver corso in vano né in vano faticato vogliamo tenere alto la parola di Dio vogliamo camminare nella luce il nostro Signore regna e nel giorno di Cristo arriverà per giudicare il mondo facciamo in modo che non sappiamo quando arriverà quel giorno camminiamo in modo di essere dalla sua parte ogni giorno perché Lui regna preghiamo Padre voglio ringraziarti Gesù Cristo regna ogni potestà Gli è stato dato in cielo e sulla terra e Lui è con noi ogni giorno fino alla fine di questa età di questo mondo e poi apparirà e ci porterà con sé vogliamo ricordare questo? vogliamo ricordare questo attivamente per avere pace in mezzo alle prove Padre il mondo è malvagio molto malvagio ma ci sarà il giudizio e Gesù tiene conto di tutto aiutaci a tenere gli occhi su Gesù aiutaci a camminare in santità per essere trovati puri irreprensibili quando arriverà o quando ci chiamerà a sé anche senza avviso vogliamo camminare in santità riposandoci rifugiandoci in Gesù Cristo il nostro Signore aiutaci a vedere l'inganno del peccato aiutaci a capire che anche il cosiddetto più piccolo compromesso è proprio una trappola per cadere sempre di più se abbiamo peccato se abbiamo compromesso in qualunque campo aiutaci a vedere e confessare perché in Gesù Cristo c'è perdono grazie che il nostro Signore regna e ti prego questo nel suo nome per la tua gloria per il nostro bene Amen Grazie